A completare un decimo la quota fissa, si ritrae Charongar e si ritrae Zlatan, gli altri fanno partenza, a rete anche Vernissage, si ritrae Verdun più WF, Zephyro Dette che sopravanza, Vernissage Grif ha rinunciato Vanesia, Zephyro al comando, Vernissage che sposterà fra poco per chiedere strada, terzo c'è Verdun, quarta c'è Vanesia, quinto c'è Zlatan, sesta c'è Charongar con Vernissage che ha già spostato dalla scia di Zephyro Dette e andrà a passare i 200 in 13 e 6, con Vernissage che con tutta tranquillità chiusa 1.22 al totalizzatore in vantaggio e la fila indiana rimarrà a lungo tempo. Vernissage Grif, una mezza meglio di Zephyro Dette, 28 e mezzo i 400 iniziali con Vernissage che inizia ad allungare e prende un po' di margine, terzo c'è Verdun, quarta Vanesia, quinto Zlatan, sesta Charongar. I 600 di Vernissage Grif in totale controllo in 42 e spaccati, 29 anche da metà curva di sinistra, rimbocco di quella di destra, si mette di fuori Zlatan che adesso è l'unico all'esterno, un po' a sorpresa. La metà gara di Vernissage Grif si completa in 57.2, 15 la curva di destra, tra i meglio di Zephyro Dette, poi Verdun, poi Vanesia, Zlatan che per ora non va avanti e indietro, non potrebbe essere, altrimenti cerca comunque di coprire Vanesia in coda a Charongar. Il chilometro di Vernissage Grif in 1.11 e 1.14 questo paletto, si va in bocca dell'ultima curva, tra i meglio di Zephyro Dette, non sta cambiando nulla, linea nelle prime posizioni, poi in terza posizione Verdun con Vernissage Grif sempre in vantaggio nei confronti di Zephyro Dette, 27.8 la terza frazione, Vernissage allunga, Zephyro è come se corresse in testa rispetto agli altri, Verdun fa un po' di mezza ruota per venire a fare l'arrivo, l'ingresso è indirittura per Vernissage Grif. che è ovviamente in vantaggio, finisce bene Verdun WF su Zephyro Dette, Vernissage deve solo riferire il tutto, Verdun WF a sorpresa, netto secondo nei confronti di Vanesia e K, il totale dice 1.52.7, 1.10.4 se fosse confermato.